Ciao a tutti, bentornati su TheGamesBru, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Manor Lords. Allora, sono andato a spulciare il forum di Manor Lords sulla community su Steam e ho scoperto un po' di cosine. Finalmente ho capito perché questi non vendono le armi, praticamente non è, secondo me questo è controintuitivo. Non dobbiamo mettere la gente nel magazzino, ma la gente va messa qui nel posto di scambio. La gente nel posto di scambio dovrebbe portare la roba qui, anche se in realtà lo mette qua al mercato, non so perché. Detto questo, un'altra cosa importante, hanno rilasciato una prima patch nel ramo per provare le patch nella versione beta, ma ancora non l'ho attivato perché non so se siano retroattive le novità e c'è il rischio che hanno scritto di perdere i salvataggi. Ora, siccome la cosa migliore da fare sarebbe riniziare, fare una nuova run, direi andiamo avanti con questa, vediamo un po' come continua, poi dopo riniziamo. Tanto non ci corre dietro nessuno, diamo tempo a loro di sistemare le patch, che sicuramente qualcosa da sistemare ci sarà, e vediamo un po'. Oggi, l'altra cosa che vorrei fare è togliere questo magazzino da qui e portarlo qui. Oddio, in realtà non stanno proprio molto lontani, eh? Tanto andiamo in avanti. Potrebbero riuscire a portare la gente qua. Adesso tutto sta in capire chi portare da dove. Allora, per esempio, qua togliamo uno, anzi, togliamo tutti e due. Tu vai qua e l'altro lo mettiamo qui. Adesso qua si dovrebbero accumulare le armi che stiamo esportando. Se poi vediamo che le cose non cambiano, allora smontiamo il magazzino e lo portiamo qua. Il fatto è che se smonta adesso il magazzino... Poi boh... Allora, intanto possiamo iniziare a costruirne uno qui. Io voglio portare le armi qua. Il fatto è che non c'è la possibilità di dirgli adesso tutto... Abbiamo messo il meno. Ecco, adesso stiamo all'asima. Abbiamo messo qui l'opzione di non portare le armi, però non le ritrasportano di là. Quindi, boh, non ho idea di queste, come farò a portarle qua. È questo, vero? Sì, questo pure è stato modificato. Il deposito è stato portato a cinque. Ci sono un sacco di cose che sono state cambiate, però ripeto... Siccome non vorrei perdere... Cosa ti manca? I salvataggi? Non c'è il pane. Perché non c'abbiamo nessuno qui? Ce n'è uno. Non state costruendo niente, vero? No, allora mandiamo... Uno... Dov'è? Al granaio, che ti devo dire. La carne come va qui? Qui sono due. Qui sono... Niente. Ok. Abbiamo bisogno di gente. Ma perché, tra l'altro, c'era scritto... Che, se metti con tab, ti fa vedere... Se la roba sia piena o meno. Qui non fa vedere nulla. Qui, per adesso, non portano nulla. Quindi, boh... Vediamo se effettivamente sarà così. Qui abbiamo portato via i cadaveri. Qui c'è il maniero. Da dove togliamo la gente? Basterà uno? In teoria, sì. Facciamo già. Dobbiamo approfittare e prendere la roba qui. Non c'è altra gente. Non so se... Questa è già potenziata. Questa è già potenziata. Qui zero persone. Qui uno. Qui due. Due, due. Qui... Qui in teoria dovrebbe arrivare più gente? Mi sa di sì. Santuario. E quando l'abbiamo costruito, questo? Ah, questo già c'era. Hello? Allora, andiamo un po' qui, va? Adesso qua... Le armi dovrebbero venire accumulate, ma... Vediamo se è questa. Anche no. Io proprio non vedo nessuna differenza. Esporta. Ok, però adesso c'è l'argilla. Quello sì. Dovremmo avere molti più soldi, in teoria. Vedete, ho fatto bene a non distruggere il magazzino. Già il diluvio è arrivato. Venti. Eh, abbiamo ripreso un po' di... Ok. Abbiamo riperso tutto. Questi non fanno proprio niente. Ok. Qui non abbiamo più... Già assi. Dovrei fare un'altra buca del segantino, ma... Siamo sempre lì, non... Non c'è la gente. Ahimè. Qui è tutto abitato. Che stiamo producendo? 53 scudi piccoli. Un buato di alabarde, quello sì. Non c'abbiamo più le assi. Facciamo un'altra buca del segantino, che ti devo dire? Qui o qui? No, anche qui. Qui ci sono due, qui ci sono due, qui c'è un buato di gente. Tre. Tre! Qui proprio... Invece... Proprio un Kaiser. Appena si mette di... Allora, aspetta un attimo. No, no, no. No. Ok, le armi. No. Facciamogli portare solo le alabarde, magari. Le porta qui. Niente, qui... Non ho capito perché a questo non gli arriva... Adesso non gli arriva manco più... Ah, qui non gli arriva più perché non ce ne sono. Eh, eh. Ma... Il problema è sempre lo stesso. C'è! Chi è che dobbiamo togliere? Boh. Punto di scambio. Ok. Commercio. Stiamo esportando. Sta roba che non vale niente. Forse dovremmo fare un'altra casa. Oh, Wallbrand. Mazza, l'ho chiamato. Ok. Eh, vai qua. Accogliamo quanto più cibo possibile. Abbiamo finito? No. Eh, pure qui. Più uno. Ok. Dispensa piena. Eh, mamma mia. Scusa? Ah, figo. È vero, non ci abbiamo nessuno. Manca il granaio. Porca miseria. Tagliamo questo. Mettiamo qua. Non c'era un granaio anche qui, tra l'altro? Sì. E allora? Che vuoi? Facciamo così. Facciamo così. Un attimo. Adesso qui poi porteremo le armi. Ehi! Le scarpe! Finalmente! Hanno preso le scarpe! Uhuh! Stavamo vendendo anche quelle. Tra l'altro quante scarpe avevo? 135.000. Ok, buca del segantino terminata. Adesso andate a costruire questo. Qui, ciao, tutto. Poi ti distruggiamo. Vai. Voglio provare a fare una cosa. Voglio che mi portino tutte le armi qui. Metteremo solo il legno. Vediamo se funziona. Dai, su. Sveltini. Sveltini. Allora, facciamo anche una cosa. Aspetta. Eh no, dobbiamo. Ok, allora adesso avanzate. Togli tutto. Via. Ok, solo questo. Via. Eh, questo è il carbone. Dove è il carbone? Qua. Ok. Vediamo. Ora. Questi. dovrebbero sbrigarsi. Vediamo. Vai. Allora, aspetta un attimo. Ricontrolliamo prima di far cavolate. Qui abbiamo messo legno e carbone. Ok. E qui abbiamo messo le armi. Ah, mettiamo tutte le armi. E anche gli stivali. E questo e questo. E tutta la roba che stiamo vendendo. La mettiamo qui. Teoria così dovrebbe essere. Anche le tegole. Anzi, no, 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 no. Sbagliato. Aspetta. Perché se no adesso mi vanno a prendere pure sta roba. Io invece voglio che mi prendano solo le armi. Ok. Bravi. Bravi. Non so dove vadano quelle. Vai, vai, vai. Tutti. Tutti veloci. Tutti veloci. Ok. Qui la roba la stanno portando. Qui per adesso stanno portando solo le scarpe. Sono aumentate le ricchezze. Ottimo. Qui stanno portando le armi. Molto bene. Allora, andiamo qui. Allora, qui... Qui dovremmo fare un'altra casa. Il fatto è che non so chi mettere lì. In buca del segantino non c'è nessuno. La gonceria. C'è uno. Potremmo un attimo togliere la gonceria. E vai a costruire una casa. Qua. Ok. Vai. Cos'è? Pieno? Deposito generico via, no? È questo, tanto. Sempre questo. E... Ci serve definitivamente più gente, ma... Eh, lo so che mancano famiglie, ma... Chi ci metto? Vabbè, qui. Togliamo un attimo lui. Allora, dobbiamo anche mettere un attimo in pausa questo. Dobbiamo mettere in pausa anche questo. E l'altro fabbaro. No, le spade le possiamo fare. Allora, vedo così. Generale fa le spade. Ok. Che sennò mi consumano le lastre. Le travi. E le travi ci servono. Abbiamo preso la roba? Sì. Allora, qui possiamo togliere uno. Grazie. Dove sono le scarpe? Qua. E ci sono altre armi. Quindi faremo lo stesso con questo qui. Le scarpe le mettiamo qua. Avanzate. Allora, adesso possiamo dirgli questo qui. Questo qui. E questo no. No, infatti... Non so. Aumento di livello di insediamento dove? Wallbrand. Bene. Questo sì, però. Ottimo. Vediamo. La roba si sta rovinando. Allora. Che facciamo a Wallbrand? Abbiamo fatto questo. Potremmo aumentare la produzione di pelli. Boh. Boh. Potremmo fare dei meleti. Non l'abbiamo mai fatto. Questo pure. Questo no, perché qui purtroppo non abbiamo niente. Carro per la legna? Meh. Cultura? Meh. Potremmo provare questo. Il miele. Non l'abbiamo mai fatto. Ma non so. Non credo che convenga, in realtà. Non so che fai. Carbone? Meh. Questo no. Questo no. Potremmo fare rotte commerciali pure qui, ma... Sarebbe interessante vedere il meleto, ma ci mette un casino. Dobbiamo fare questo. E poi vendiamo le scarpe anche da qui. Eh. Il fatto è che qui le pelli servono solo per a quello. I campi... Non ci abbiamo comunque la gente. E non so qui che cosa farò. Oddio. Potremmo fare un campo qui? Non sarebbe male. Orzo? Adesso una parte. Possiamo provare una roba nuova che non abbiamo mai provato. Che sono queste. Ma si va. Proviamo. Magari poi... Non conviene. Però... Almeno lo vediamo. Dove si fa? Non è qua. Capiario? No. Eccolo qua. Dobbiamo interloccare perché è vicino al cibo. Ok. No. Che c'è? Lo so che le risorse sono esposte, ma... Qui non abbiamo... Allora, vai qua. Dobbiamo costruire anche il tizio che rimette gli alberi, eh? Perché qui non c'è più alberi. Che c'è? Oh, comunque non c'abbiamo mai gente, eh? Sette assi, dai. Le armi comunque non le portano qui. Porca miseria. Adesso non portano anche più le scarpe. Tra le altre cose. Se decidessimo di distruggere questo... Che cosa ci mettiamo? Le assi. Eh sì, solo le assi. E le scarpe... Però... Anche le scarpe. Non so se convenga lasciarle qui... O portarle qui. Perché le scarpe vanno messe anche... Nel... Nel mercato. In realtà... Scusa un attimo. Bourgage di livello 2. Questo carote. Dov'è quello che fa le scarpe? Fabbro, carpentiere... Non è. Ok. Fabbro, bottega del calzolaio. Eccolo qua. Ok. Apiario completato. Vediamo un po' l'apiario. Il problema è che ci va la... Eh, il problema è che ci va la gente nel cacchio di apiario. Metti uno all'apiario. Qui ingrandiamo. Grazie. Eh, lo so, ma la gente non si muove. Qui. Oh, è quasi pieno. Vai. Dobbiamo assolutamente costruire questo. Facciamo un attimo così. Facciamo... Un attimo... Un attimo... Lasciamolo sì. Dai velocini, eh. Potete sbrigarvi a costruirmi questo di livello più alto. Quattrocento monete, però... Sta andando alla grandissima il commercio. Vediamo. Niente. Ottanta monete. Meno due. Il tema è che mi sa che ancora non vendiamo alla barde. No. Assolutamente. Che armi ci sono qui? Che armi ci sono qui? Ci sono la barde. Dobbiamo portare le spade lì. Diciamo basta armi qua? Eh, qui abbiamo detto basta. Il diavolo? Portano allora tutte le armi, scusa. Abbiamo 95 spade. Dove stanno? Qui ce ne so a zero. Le 93 stanno qua. Vaffan bene. Tocca distrugge, vè? Tocca distrugge. E distruggeremo. Priorità mega altissima. Grazie. Bravi. Raccogliete tutto. 451 monetine. Adesso possiamo importare la birra. Abbiamo messo in pausa la produzione di... Dove sta? No, la produzione. L'importazione di questo. Importa 40. Vai. E adesso qui possiamo fare... Uno di quelli che produce. Intanto... Facciamo... Intanto aspettiamo perché devono finire di costruire questo. Sennò dopo... Si incastrano. Qui come andiamo? Abbiamo fatto la casa più grande? Sì. Non possiamo salire di livello. Perché? Che te serve? Cosa non hai adesso? No, abbiamo tronchi? Sì. Fornitura di cibo? No. Regresivi? Why? Boh. Facciamo così. E facciamo un'altra casina qua. Mercato è qui. Anzi no, c'è una casa qui. Vicino al signore. Mmm, il signore non vuole. La gente appiccicata. Posso fare una casa così? Sì? Torribile. No, facciamola qua così. Ok. Bene. Abbiamo finito? Ma deghe. Eh, che c'è solo uno. 415. Vai. Lumachini. Dai, su. Potremmo alzare... Adesso si è abbassato. Perché? Tassazione. Meno 16. Tassazione. Meno 6. 310. Ammazza. Abbiamo perso... Ah, perché staremo importando l'uppolo. 40 di malto. Ok, bene. Allora, rimetti uno qua. Ok. Mettiamo un'altra persona. Un attimo raccoglie tutta sta roba. Più 92. Allora, stanno portando la roba... Ma non proprio tutto. Vai, vai, vai. Ok. Adesso, probabilmente, dobbiamo sbrigarci a portare via tutto da qui. Perfetto. Possiamo far salire di livello una casina carina, carina. Tipo questo. L'ho fatto. Facciamo questo. Non appena parla... Cioè, qui i carrelli stanno veramente al 200% di operatività, ma... Cioè, quanta roba c'era. Abbiamo preso tutto? Mardichè. Ancora qua la roba. La togliamo uno che deve andare a costruire. Ok. Perlomeno sono contento. Finalmente arriva il denaro. Perché abbiamo così poche scarpe? Improvvisamente solo 46. Quanta pelle abbiamo? Una pelle solo? Wait, what? Dovremmo avere molta più pelle. Ok. Il problema è che non la possiamo portare da qui. Come al solito. Perché... La gente... Poi non è contenta. Cioè, non... Non ci fanno fare i commerci. Facciamo un altro apiario. Aspetta un attimo. Dove sei? Qua. Facciamo un altapiario. Vai. Ce l'abbiamo fatta? Ancora no. Oh, signor. Vabbè. Qui abbiamo fatto la casa. Sì. Ok. Questa è di livello... E qui dobbiamo portarla a livello 2 in modo che produca più pelli. Perché se no ciao. Ma prima di tutto vorrei fare quello per la birra. Quindi portate su di livello questo. Dei passi che... Ah, pietra? Oh, pietra... Mettila qua. Tanto non la... Pensava fosse carbone. Qui continuano a non portare le spade. Eccole, finalmente! Uhu! Spade alla bode. Se si rovina la pietra... All'aria, mincavolo, eh. Dobbiamo potenziare anche questo perché ci serve... Più pelle. Abbiamo finito la pelle. Abbiamo finito la pelle. Abbiamo finito quasi... Ci sono le armi qua giù. Non se sa perché. Perché è tutto X. Abbiamo quasi finito anche... Il metallo. Damnation. Però siamo a 600 monete! Non abbiamo mai avuto così tanti soldi. Ok, basta. Andate ad aiutare questi a costruire. Ok. Cibo per 12 mesi! Uhu! Su, su, su! Sveltini! Vai! 40 di malta dovrebbe passare. Abbiamo 0 lastre di ferro. Inspiegabilmente qui ce n'è. Ah, non ci so più. Ok, fantastico. Arriverà più gente a un certo punto. Ok. Birraio. Ehi! No, Wolbrand. Maledizione, Wolbrand. Allora. Uno qui. Ehi, stiamo producendo miele, eh? Attenzione! Guardate quanto cibo! Zero miele. Abbiamo tantissimo cibo. Yay! E qua dovremmo in teoria portare all'altra parte, ma no. Mettiamo uno a lavorare qui, anzi due. Vedo che c'è. Area di lavoro vuota, lo sappiamo. Ciao. Mettiamo uno al granaio. Granaio. Uno qua. E l'altro libero che fa i lavori nei campi. 136, attenzione. 736! Deposito generico pieno. Sempre la buca del rossegantino. L'ho fatto? Mastro birraio? No. Mentre fanno il mastro birraio. Vediamo un po' dove mettere... La taverna. In taverna, guando sumus qua. Taverna. Allora, la taverna è stata... La birreria è stata fatta. Ahimè. Speravo che entrasse la taverna qui e invece manco per il cacchien. Eeeh. Ah, dannazione. Questa non la possiamo distruggere. Questa non la possiamo distruggere. Fatto cacchiata? Fatto cacchiata. Forse potremmo spostare il mercato. Tipo? Uh, sì. Aspetta un po'. Proviamo. Salviamo. Fammi dire una cosa. Se io adesso decidessi qua di fare il mercato... No? Tipo? Così. Anzi. Anzi. Facciamolo qua al mercato. Ok. Facciamo il mercato qua. Bene? Ok. E adesso queste noi le spostiamo qui. E' lì. Io spero solo che... Sta sta roba serva. E Dobb non invece... Mi dica... Non c'è spazio comunque. Attaccati. Che potrebbe essere un bellissimo epic fail. Non so se debbano andare girate da... Un verso particolare. Noi metteremo così la roba. Starò facendo bene? Starò facendo male? Beh. Lo ignoro. Vice escort è qui. No. Forza gente. Al lavoro. Ho veramente idea. Mo' mi dirà... La bancarella non ha un accesso alla strada. Mi 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 mi. Sembra abbastanza random. Come son messa ma... Nel frattempo abbiamo quasi raggiunto le 800 unità d'oro. Il che mi rende molto felice. Mi fai cliccare... Ecco questa. Grazie. Attenzione. Ho capito. Ok. Fatto tutto. Veloci. Sì sì. Lo so. Un attimo. Adesso sta gente... Si mette a lavorare. Su. Bancarelle costruite. Vai. Guardate qui... Come costruiscono il mercato. Neanche a Roma fanno questi spostamenti strutturali. Mille da che? 800 pezzi di legna d'arder abbiamo. Beh io uno lo toglierei da qua a sto punto. Lo so che le risorse sono esposte. Adesso... Spero che la gente venga a raccogliere sta roba. E cibo. Eh... Ma se lo facciamo così? Vai. Che c'è rimasto? Guardate le uova! Vai tutto il cibo. Andate a prendere tutto il cibo. Una volta che abbiamo tutto sto cibo... Qui come andiamo? Iniziamo a produrre birra mi sa eh. Sì. Tre birre. Abbiamo preso tutto? Non abbiamo preso tutto. Dai vi ho messo in 18.000 a lavorare qui. Su. Su. Dai. Dai che si impantana tutto se no. Guardate che bello eh. Sacro e profano. E beh. Abbiamo veramente cambiato tutto. Dai rapidini. Intanto andiamo a vedere di qua. C'è sempre uno che non fa niente. C'abbiamo 150 monete. Per cui io direi facciamo... Qui abbiamo un sacco di uova. Potremmo fare delle carotine qua. E potremmo potenziare sta roba. Ok. Siamo riusciti? Scorte di che? Ancora cibo? Mamma mia. Ci sono le mini uova qui. Lo so. Sto granaglio è lontanissimo. Perché l'havamo messo qui? Perché questa in realtà serviva per questo. Qui non c'è più nessuno. Eh allora aspetta. No. Qua ci servirebbe una persona da mettere. Allora io. Ah no. Qui non è arrivata... La primavera. O qualsiasi cosa sia. Dai. Svelte. Se faccio così... Le perdiamo quelle risorse... Che non vorrei perdere tutte queste risorse perché... Siccome poi non è facile... Uh! 765! Vai! Andiamo a spade. 49 solo? Un attimo. Commercio. Fino a 30. Ok. Eh... Dobbiamo andare a produrre ferro. Abbiamo preso tutto? Ci sono ancora due uova, dai. Tre uova. Un uovo, un uovo. Ok. Allora. Togliamo due da qui. Mandiamoli qua. Ci serve assolutamente della roba. Anzi, no. Perché... Un attimo. Ciao. Per favore dimmi che adesso qui possiamo fare questa. Yes! Yes! E vai! Uhu! E adesso qua dovrebbe andare bene perché... Ci abbiamo già... 15 unità di birra. 839 monete. G. G. Abbiamo un fracco di... Di legna da ardere. Per un milione di mesi. 32 mesi. Tiè. Facciamo un attimo così. Bello. Que diavolo, eh. Qua. Vai a prendere sta roba. Eh, poi ci dobbiamo mettere anche la gente a lavorare. Grunwald dispensa piena? Eh, lo so, ragazzi. Lo so. Adesso, appena finiamo la taverna. Dai. Eh, vai! Una persona in taverna. E olè! E olè! E proprio olè! Facciamo salire di livello questo perché ci serve più materiale. Non so da dove prendere la gente, però. Però adesso dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare un boost di allegria impressionante. Qui non c'è più nessuno. Ok. Dispensa piena perché ci serve la gente a prendere il cibo. Lo so. Qui stiamo raccogliendo. Qui non stiamo raccogliendo. Don't know. Siamo quasi a 900 monete! Aspettate perché volevo solo vedere... Uh, possiamo arrivare a livello 3? Yes! Yes! Adesso la facciamo subito a livello 3, eh. Adesso con le galline. Anzi, se facciamo questa che è grande. Dai! Veloce! Voglio vedere la prima casa di livello 3. Uhuh! Finalmente! Adesso ci serve solo un boost in popolazione per fare più gente. Più soldati. E poi... GG! Non so che c'è la dispensa piena, eh. Fatto! Vai! Livello 3. Sì, a lavorare alla casa. Qui che c'è. Deposito. Dobbiamo rialzare la produzione delle spade perché se no... Non ci abbiamo più nessuno. Come andiamo a travi? Abbiamo un sacco di assi, quindi ciao! Ok. Non ci abbiamo più niente. Perché non ci abbiamo più niente qui? Pazzo, tu lavori così piano? Ok. Eccola! Olè! Allora, dai un po'. Il nostro primo casone. E adesso abbiamo la birra. Ragazzi, quasi mille monete. Finalmente ci siamo ripresi. Madonna, come cambia tutto la disposizione dei magazzini, eh. Impressionante. Bene, bene. Sono veramente contento. Abbiamo anche mille monete di ricchezza personale. GG. Allora, direi che possiamo terminare qui. La città finalmente si è ripresa. Abbiamo la nostra bella taverna. La prima casa di livello 3. Il mercato nuovo. Un commercio fiorente. Adesso dobbiamo assolutamente concentrarci sull'estrazione mineraria. Perché così potremo continuare a vendere spade e fare un sacco di soldi. Perché ce n'abbiamo più 30 di spade. Quindi adesso inizierà a scendere anche il nostro denaro. Però non dovrebbe essere un problema troppo grande. Arrivati poi a tre case. Potremmo sbloccare finalmente l'ultimo punto e avere veramente ferro infinito. Allora, fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti. Ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!